Dominare la bicicletta sui terreni più diversi, in montagna, ad esempio nel fango, e su strada. E' a metà strada tra puro divertimento e sport agonistico. Allora proviamo ancora a percorrere la curva a destra in pendenza. Da lì ci mettiamo nella posizione più ottimale per affrontare il singletrack. Ci vuole disponibilità da parte dei genitori. Non avere troppa paura. L'attrezzatura è importante. Casco, guanti, occhiali. Condizione fisica. Ci vuole coraggio. La cosa migliore è entrare in un club. Così i ragazzi si allenano con i coetanei e si divertono ancora di più. Per ora non puntiamo troppo sulla prestazione e gileggiamo ancora all'aspetto ludico. Così i ragazzi si affrontare il singletrack. Ciao.